Un festival musicale e non solo, il 21 e 22 giugno ad Arsita. Si tratta del Dlandland Festival che da 13 anni ricorda Amedeo Trignani, storico personaggio della cittadina. Quest'anno torna nuovamente questo appuntamento importante che nel corso degli anni è cresciuto e ha acquisito una visibilità che merita davvero. E' nato appunto 13 anni fa per ricordare un nostro caro concittadino che purtroppo è venuto a mancare a causa di un incidente Amedeo Trignani e quindi un gruppo di ragazzi e amici tra cui il figlio di Amedeo si sono messi insieme e hanno creato questo evento proprio per ricordarlo. Perché lui era un grande appassionato di musica ed era giusto e doveroso ricordarlo come meritava perché lui è stato anche presidente della Proloco di Arsita e aveva promosso all'epoca tanti appuntamenti musicali anche di rilievo importante. Organizzato dall'associazione Allamanì e dalla band locale ma di respiro nazionale i mobili trignani, la line up di quest'anno prevede musica e appuntamenti di cultura. Oltre agli artisti che saranno gli Exotago, Lucio Corsi, Anna M. Vulcan, Amalfitano, Emanuele Colandrea e noi mobili trignani andremo ad ospitare anche attività extra musicali come laboratori di pittura creativa, laboratori di tarocchi e anche un pranzo vegano con rivisitazione di prodotti tipici in chiave vegana. Quindi ci saranno tante attività oltre alla musica per quanto anche la musica ha il suo peso perché sono artisti molto importanti nel panorama indipendente della musica italiana.